Ciao Raffaella, è un piacere intervistarti, sei stata una grandissima giocatrice, una delle più forti giocatrici italiane. Faccio questa domanda, partiamo con questa. A che età hai iniziato a giocare a tennis? Tanto ciao, ti saluto anch'io, ti ringrazio dell'intervista, dell'opportunità che mi dai di ribangare un po' quello che è stato un po' tutto il mio passato tennistico. Io ho cominciato a cinque anni, mio padre andava al circolo tennis a Faenza a giocare il doppietto con gli amici e io prendevo la sua Dunlop di legno, che era il triplo, la più grande di me, di non so quanto, e io giocavo al muro. Stavo al muro delle ore e mi divertivo. Nel momento che lui faceva le sue due ore di doppietto, io mi mettevo lì al muro e giocavo. Questo è stato il mio approccio al tennis. Dopodiché girava un po' tutta Italia il maestro Antonio Rasici, che lui era a capo della Scuola Nazionale Maestri, poi è stato a capo di questo istituto per tantissimi anni, e faceva una sorta di stage estivi e partiva dai sei anni in poi. Io non avevo sei anni, però lui mi prese comunque lo stesso a fare questi stage e dal di lì poi ho cominciato a giocare in maniera più seria. Era tra il tennis e la danza, e alla fine ho scelto il tennis. Hai fatto bene, a questo punto hai fatto bene, diciamo che hai fatto bene sicuramente. Niente, e quando è che hai pensato di poter fare del tennis a tua professione? Quando è che hai capito che potevi diventare una giocatrice? C'è stata un'età particolare, un momento, o è stato un crescendo, diciamo così, piano piano? Molto probabilmente un crescendo piano piano. Non mi ero mai, allora nella mia testa, non avrei mai... No, mi piaceva, e mi piace tuttora il tennis, ho sempre avuto una grandissima passione, ma mai e poi mai nei miei più sogni avrei pensato di poter ottenere questi risultati. assolutamente, forse la consapevolezza, diciamo così, di poter fare del tennis il mio lavoro, ripeto, forse è stato quando sono andata da bollettieri. Ecco, forse lì è cambiato qualcosa. Però, sin da bambina, avevo una grande determinazione, mi piaceva stare in campo, non mi pesava assolutamente gli allenamenti, a nove anni, che è un po' tutto l'iter, che hanno fatto un po' i giocatori di Faenza, perché Faenza non c'era, diciamo così, un maestro stabile, e prendevano tutti e andavano alla Virtus Bologna. Prima da Lele Spisani, dopodiché seguivano Ferruccio Bonetti. Fino a una certa età c'era Lele che, diciamo così, ti impostava dal punto di vista tecnico e poi dopo Bonetti, Ferruccio, ti dava un po' quegli input dal punto di vista delle strategie, di come comportarsi magari durante le partite, dandoti degli input completamente diversi. Quindi mamma mi accompagnava praticamente quattro volte a settimana a Bologna, avanti e indietro. Quindi il pezzo dell'autostrada, Faenza, Bologna, ormai posso farlo a occhi chiusi. E quindi ho cominciato, diciamo così, in maniera un pochino più seria quando avevo nove anni. Però sempre con, ripeto, la consapevolezza prima di tutto di divertirmi. Quello era una cosa che mi piaceva veramente tanto. Poi, ripeto, dopo, andando negli Stati Uniti, ho preso una consapevolezza ben diversa, un po' più da, diciamo così, da professionista. Ok, quindi a nove anni hai iniziato a fare la spola, diciamo così, da Faenza a Bologna. Quindi eri ancora piccolina e quindi anche i tuoi genitori avranno capito che ne valeva la pena. Benissimo, quando ho pensato alla tua intervista, alla tua persona, diciamo così, la prima domanda che ho pensato di farti è proprio quella che riguarda Bollettieri, quindi il centro. Quindi qualche ricordo. Se sei contento, insomma, di aver fatto quella scelta, che cosa ti ha dato? E se lo consiglieresti, diciamo così, adesso a una ragazzina, magari non Bollettieri o un'esperienza simile, o se consigliereste ancora a questo punto il centro di Bollettieri? Guardi, ho avuto un'opportunità grandissima, avevo 14 anni e ho sempre detto che se avessi avuto l'opportunità sarei partita prima. Ma prima di tutto per un'esperienza di vita, poter comunque confrontarsi con tutta una serie di ragazzi e ragazze che venivano da tutte le parti del mondo. Certamente, tu dici, sei andata là per il tennis, quello senza ombra di dubbio, però c'erano anche altri fattori che mi hanno, ti dico, indotto ad andare là. Il fatto di poter imparare una lingua e, ripeto, e di vedere anche un'altra cultura e un'altra mentalità, che poi è stata quella, diciamo così, la mentalità che mi ha fatto, diciamo così, fare sicuramente quel salto di qualità in più a livello di risultati e a livello anche poi di classifiche e tutt'altro. Quindi con Bolletieri siamo assolutamente in grandissimi rapporti, un grandissimo motivatore. Questo è quello che lui mi ha dato tanto da questo punto di vista qui, conoscendo anche non la Raffaella giocatrice, ma anche la Raffaella come persona, quando aveva bisogno, Raffaella, di staccare un attimo, di avere o che era in difficoltà, sapeva assolutamente trovare momenti, le parole, moda e maniera comunque di parlarti, ma non solo con me, con tutti i ragazzi che comunque hanno frequentato l'Accademia. Che dire, io lo consiglierei, sì, consiglierei, ripeto, per un'esperienza assolutamente di vita. Io sono partita con la mia Sansonite, le mie racchette, sperando di poter fare un'esperienza bellissima e poi dopo sono arrivati i risultati, è arrivato tutto il resto. Certo, oggi il tennis da 35 anni fa è cambiato, è cambiato tantissimo. Ripeto, io non avevo delle grandi aspettative. Adesso oggi quando senti parlare ragazzi e ragazze che hanno delle buone qualità, già hanno delle idee molto chiare. voglio diventare i primi dieci del mondo, cinque del mondo, cioè tanti che si pronunciano in questi termini. Io volevo diventare, cioè volevo tirare fuori il meglio di me, cioè riuscire ad arrivare al limite di quello che poteva essere il massimo delle mie qualità e capacità. E credo di averlo fatto, questo senza ombra di subito. Quindi esperienza certo, che consiglio. E fino a che età sei rimasta? Quindi dai 14... Praticamente finché ho smesso di giocare, dopo è rimasta la mia base. Esatto, la mia base dalla preparazione praticamente invernale, prima poi di partire per l'Australia, a fine dicembre, primi di gennaio. E poi insomma mi dividevo un po' dagli allenamenti alla Virtus Bologna durante diciamo così periodi che ero a casa e poi quando andavo negli Stati Uniti quella era un po' la mia base lì. Esatto, andai da Nick. Beh, diciamo che i tempi sono cambiati, niente, sicuramente ai tuoi tempi, insomma quando, alla tua età, a 14 anni, secondo me la scelta era forte e per te è stata sicuramente una scelta di crescita sia tennistica ma anche umana ed è quello che, come hai detto tu, ti ha fatto diventare poi quello che hai fatto, hai raggiunto. Guarda, devo dire che... Non so se dico sinceramente se si adatta ai tempi di oggi una scelta perché vedo in generale i giovani un pochino più, lo sai anche tu, un pochino più viziati, un pochino più... Io ascoltando le tue parole devo dire che ho fatto il paragone con Sandra Cecchini perché l'altro giorno ho sentito una sua intervista e Sandra ha detto che nei primi all'Orange Bowl, insomma, oppure no, dopo, insomma, i primi tornei che ha giocato negli Stati Uniti è nata da sola, era là, persa, non sapeva dove prendere l'aereo, dove doveva andare nel torneo successivo e secondo me quelle sono anche le chiavi, cioè l'arranzarsi, il crescere, la fame, diciamo così, la voglia di emergere, cioè fai dei sacrifici vuol dire che... Cosa ne pensi? Forse i giovani di adesso manca un po' questa... Allora, guarda, io ho avuto una grande fortuna che comunque i miei genitori e in particolar modo mia madre che questo poi l'ho saputo dopo tramite poi i racconti che mi piaceva papà poi negli ultimi periodi perché purtroppo nell'arco di due anni da 2011 a 2013 ho perso tutti e due i genitori io e quindi papà mi raccontava che quella che ci credeva di più di tutti in famiglia era mamma, quindi mamma nel momento che ci siamo trovati a tavolino e ho avuto questa sponsorizzazione per poter andare da bollettieri che era la Kibble Top Line se tu ti ricorderai e la Prince. Io infatti partì per gli Stati Uniti giocando con la Prince Woody, era il primo racchettone di legno tramite Paolo Bodo. Lui mise sotto il contratto Gianluca Rinaldini e cercava anche una donna e quindi Gianluca diede diciamo così là a Paolo dire guarda secondo me Raffaella potrebbe essere l'ideale e il signor Bodo aveva praticamente una borsa di studio per poter frequentare i bollettieri e venne a casa a Faenza e firmando i contratti disse beh ti andrebbe di partire per gli Stati Uniti andare a fare un'esperienza in America? Io figurati non stavo più nella pelle guardavo il mio padre devo dirti la verità insomma la faccia di papà non era proprio entusiasta perché poi lui la famiglia tutti insieme quindi classica non so la domenica dovevamo andare a essere a pranzo tutti insieme quindi ti do un po' l'idea di quello che era un po' la nostra famiglia. Mamma mi guardò mi disse tu vuoi andare? Dico sì allora la bambina può partire quindi io dal di lì devo dire la fortuna di avere anche due genitori tra l'altro non sportivi papà giocava tennis ma niente di che mamma mai fatto sport in vita sua quindi ripeto quello è fondamentale io lo chiamo lo zoccolo duro avere comunque una famiglia alle spalle che mi ha dato un'opportunità talmente grande che molto probabilmente tu oggi parli di ragazzi viziati di ragazzi che hanno praticamente tutto magari anche le famiglie le famiglie sono anche cambiate anche in questo io devo dire che per me è stata una grandissima una grandissima fortuna e ringrazierò sempre perché non mi hanno mai ti dico ostacolato presenti molto presenti anche se ero lontano dall'altra parte del mondo ma la loro presenza si sentiva molto molto forte quindi nei valori nel nel diciamo così comportarsi sempre in un certo modo tu prima hai parlato di sacrifici no io non ho mai non l'ho mai considerato così quello che avevo fatto per me era un piacere alzarmi la mattina andare a giocare non l'ho mai trovato un sacrificio quello di star lontano da casa o di allenarmi tanto e di 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 arrangiarmi da sola certamente sai carattere anche questo no quindi io non mi sono cioè adesso ti dico quando io sono partita per gli Stati Uniti per andare da bollettieri il mio aereo il era in ritardo di tre ore e quindi perse la coincidenza a New York quindi ti lascio immaginare sei a New York al Kennedy un aeroporto enorme e io dovevo rimanerli la notte e quindi sai ero completamente da sola quindi vedevo questi pulmini che giravano con i nomi dei vari alberghi salgo su questo che era Lilton e chiamo casa e dico guarda sono in un albergo qui all'aeroporto di New York che l'aereo era in ritardo e quindi prenderò la coincidenza la mattina dopo alle sette poi l'ho saputo ovviamente dopo buttando giù il telefono mio padre in casa dava di matto la bambina era sola io adesso e niente la mattina ho ripreso la mia coincidenza sono arrivata a Bradenton Sarasota che poi è lì dove è l'Accademia di Bollettieri e tra l'altro mi è venuta a prendere la segretaria di Nick Carolina mi ricordo benissimo che quindi parlava un po' un po' spagnolo perché ovviamente il mio inglese era the pennies on the table what's your name e non di più quindi il mio inglese era proprio scolastico al massimo e mi disse guarda vate a cambiare Nick ti aspetta sul campo e quindi mi andai a cambiare mi ricordo col mio completino di Kim Top Line ti racconto quest'aneddoto perché è abbastanza ti dico particolare e andai in campo lui un po' con questo suo dialetto napoletano perché un pochino anche lui di italiano un pochino lo mastica e allora dopo un quarto d'ora venti minuti che mi vede giocare mi disse facciamo una scommessa io e te va bene che scommessa vuoi fare in un anno entrerai tra le prime cinquanta del mondo calcola Roberto che io non avevo classifica mondiale all'epoca quindi mi stavo preparando diciamo così ancora stavo giocando a livello juniors avevo giocato qualche torneo futures in Italia e anche credo gli internazionali d'Italia Perugia si giocavano all'epoca con una wallcard in quali e quindi io chiamai casa quindi ti lascio anche immaginare le bollette telefoniche a casa no? vabbè e dici guarda ma scusa ma questo qui ci è o ci fa? cioè mi ha detto che tra un anno io diventerò tra le prime cinquanta del mondo ma no e mia madre fa guarda ci devi credere se lui dice così e insomma sono passati sei mesi quindi anche meno di un anno la classifica era 47 quindi si vede che un po' ci aveva risposto e quindi quanti anni avevi? avevo 15 anni incredibile 15 anni avevo avevo 15 anni avevo vinto l'orange ball quindi io sono arrivata da bollettiere a ottobre a dicembre vinsi l'orange ball under 16 e ebbi una wallcard per giocare perché per per avere classifica mondiale all'epoca dovevi avere tre tornei giocati a livello professionistico e a me ne mancava uno quindi dal momento che entrai in questo torneo feci pre-quali quali e persi nei quarti la mia prima classifica mondiale fu 127 dal di lì ebbi l'opportunità comunque di fare già una programmazione giocando ancora un po' a livello junior ma più che altro professionistico e Nick mi disse bene allora nel momento che giocherai a livello alto io voglio che tu vada a giocare con quelle più forti quindi con già tornei comunque di di un certo spessore tecnico diciamo non voleva farmi incominciare diciamo così a giocare livello se devi prendere delle sdentate è il caso che incominci adesso inizi subito come poi la scelta di tanti campioni soprattutto uomini anche di adesso insomma la scelta dello zio di Nadal pare che fosse quella io credo che Bollettieri in te abbia visto subito la tenacia e la determinazione come prima cosa poi magari anche le capacità atletiche per poi in un ultimo luogo diciamo così le capacità tecniche che secondo me lui vedeva di poter migliorare ma io credo che lui abbia visto subito in te la determinazione la tenacia perché una ragazzina che parte dall'Italia e fa quella scelta lì insomma per quello che ti dico non so in quanti adesso o quante lo facciano con quella con quello spirito che tu avevi allora sei d'accordo? forse essendo anche essendo anche italiana anche quello forse ha influito anche no essendo anche lui comunque di origini italiane napoletane forse anche per lui è stata magari una scommessa no magari il dire proviamo ed è andata bene una cosa ti devo svelare una una cosa prima ho guardato come ti ho detto ti ho avvisato prima ho guardato un pochino ho fatto una ricerca su youtube ho visto un pochino dei tuoi filmati e guardando un po' insomma degli spezzoni ho visto con la Seles con la Ever e ho sorriso ho sorriso cioè mi hai fatto cioè mi eri simpatica guardando in tv mi è venuto da ridere perché eri romagnola secondo me in campo sei d'accordo al termine del punto o quando facevi un bel punto o insomma sdramatizzavi questa cosa qui mi è piaciuta tantissimo dico la verità sei molto romagnola ma guarda devo dirti la verità io entravo entravo in campo e mi trasformavo ma non so come nel senso che ho sempre avuto diciamo così due personalità ben diverse cioè dentro al campo nessuno mi poteva far male ma non male fisico no mi sentivo a mio agio era il mio quando parli non so di Federer di Wimbledon del giardino di casa sua ecco io su quel quadrato lì stavo bene era il mio il mio mondo fuori nell'ambiente ovviamente del tennis ho sempre fatto del gran casino ma nel senso buono no negli spogliatoi ho sempre avuto anche buoni buoni rapporti con le altre giocatrici e forse questo in campo si si tiravo fuori cioè in sì anche per magari la tensione sinceramente ho notato che eri serena cioè drammatizzare mi è piaciuto almeno per quello che ho visto io cioè no la pressione io devo dirti la verità quando si parla oggi di pressione no il fatto di sentire tanta tanta pressione di insomma responsabilità e risultati io devo essere sincera sì magari sarà anche capitato ma non è stato diciamo così non l'ho mai sentito come come una grande passione ho notato un doppio fallo un paio di doppi falli in un momento importante con la Sedes un paio solo quindi non era non erano dovuti al brezzino ma diciamo così tecnici no tecnico Sinda io credo che credo che la racchetta di legno è la racchetta di legno per me adesso io non so se hai visto delle foto piccoline impugnavi un pochino più su quindi ho visto che impugnavi il manico più su ho notato quindi nel servizio quello sicuramente non ti avrà mai dato una mano è il fatto di giocare con due racchette pesanti magari tu hai preso confidenza con feeling con l'impugnatura con una racchetta da mezzo chilo e la tenivi più su probabilmente è stato quello poi insomma non ho una spalla devo dirti la verità mobilissima cioè se devo prendere una palla da tennis e tirarla dall'altra parte della rete già solo questo movimento qui ero proprio scadente devo dirti la verità per non dire per non dire altro quindi il servizio è sempre stato uno di quei colpi che ho sempre fatto veramente tanta 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 fatica bene rimaniamo in questo argomento qual era il tuo colpo che sentivi di più diciamo così che nel quale ti rifugiavi oppure chiudevi il punto diciamo qual era il tuo colpo più sicuro rovescio non mi sbaglio ma rovescio alla fine il dritto all'inizio all'inizio della carriera il dritto mi spostavo il tuo dritto piatto diciamo così abbastanza impinta anticipo avrei visto piatto totalmente piatto le rotazioni non sapevo neanche dove stavano di casa assolutamente a rete ci andavo prevalentemente se ero proprio costretta ad andarci o stringere la mano all'avversaria e io ho avuto forse la qualità di avere esatto di averla una qualità di avere due piedi buoni cioè correvo dappertutto e fisicamente insomma quando stavo bene io lo dicevo sempre cioè le altre magari erano più forti però mi dovevano battere perché io comunque difficilmente mollavo esatto e sicuramente i piedi è stato l'aspetto che ha colpito bollettieri perché lui ha sempre detto me la ricordo ogni tanto la cito la sua frase famosa che lui la prima la prima aspetto la prima cosa che guardava negli allievi che gli si presentavano davanti era il gioco di gambe quindi i piedi non so se è vero ma io penso di sì perché ho sempre sentito dire questo prima guardava come si muovevano i piedi e poi tutto il resto e quindi diciamo che è stato così anche per te e niente prima te la volevo fare prima te la faccio adesso quindi abbiamo visto il tuo colpo più forte diciamo così per te il dritto e il rovescio erano più o meno sullo stesso livello il tuo punto debole dove ti sentivi ho detto prima servizi guarda non esito neanche a risponderti bene invece prima ci sei arrivato tu ma adesso te le faccio io le domande la giocatrice con la quale magari ti senti ancora la più simpatica di allora o ce ne sono più di una ma guarda la giocatrice per me la non più sultra numero uno sarà e rimarrà sempre Martina Navratilova guarda avrei un sacco di aneddoti da raccontarti ma a parte questo venne a casa Faenza giocavo in esibizione a Forlì nell'86 lei Chris Ever Evert Arancia Sanchez una persona ti dico fuori e dentro al campo squisita ancora oggi se ho l'opportunità comunque di spesso non insomma spesso vado qualche volta a Parigi Roland Garros e ho modo di incrociarla insomma si ferma saluta fa due chiacchiere ci scambiamo gli auguri comunque di Natale compleanni no è fantastica devo dirti la verità perché all'epoca eri pro Evert o pro Navratilova quindi io sono pro Navratilova su tutta la linea beh sono rimasti i rapporti anche adesso è da un pezzo che non la sento Arancia Sanchez molto Monica ha subito un cambiamento da tennista a ragazza diciamo così normale impressionante cioè come se lei avesse proprio cancellato tutto quello che è stato la tennista i comportamenti gli atteggiamenti tante volte poco simpatica e lei come direi ma non si ricorda quasi ma ti dico bello io l'ho sempre detto ho vissuto due generazioni di fenomeni ho iniziato con Navratilova Evert finendo con Graf Sabatini Arancia Sanchez e ho praticamente smesso nel momento che stava entrando la Ingis questo è stato un po' e io non non cambierei niente devo dirti la verità zero immagino sono le cose che ti rimarranno per sempre invece negli uomini con chi hai ancora rapporti oppure allora ti era simpatico ricordi volentieri o il tuo idolo diciamo così maschile ti piaceva come giocatore come giocatore inizialmente quando ho cominciato allora la mia Borg quello senza senza ombre di dubbio più Borg che Neckero il mio idolo pensa che è completamente diversa da me era Yvonne Gulagong l'australiana a me piaceva da matti ho avuto anche poi la possibilità di giocarci contro ed è stato un onore io ho anche vinto tra l'altro e ho anche vinto tra l'altro e Borg poi vabbè ho conosciuto Meckero tramite Paolo Canè che comunque si allenava con lui durante il periodo di Miami quindi delle volte ho anche frequentato casa sua il personale fantastico simpaticissimo Becker Agassi Agassi essendo di venendo da bollettieri un pazzo scatenato anche lui ha subito una bella una bella metamorfosi ti dico la cosa più bella è quando ci trovavamo tutti da bollettieri una settimana dieci giorni prima a Kibiskein e c'era un parco giocatori e giocatrici pazzesco pazzesco da Noa a Becker a Sampras ad Agassi quindi praticamente avevi dalle giocatrici anche le più forti e quindi l'ho avuto anche l'occasione ti dico di conoscerli di vederli anche proprio dal vivo anche dal punto di vista degli allenamenti quindi bello bene bene Raffaella quindi tu hai smesso all'età di giocare all'età di 26 anni quanto? non ho capito bene scusami 26 anni molto presto quindi hai smesso presto di giocare hai smesso perché non ce la facevi più fisicamente diciamo così o eri arrivata diciamo così avendo iniziato a portare 10 anni fuori di casa allora fisicamente sono sempre stata bene non ho mai avuto grossi infortuni devo dirti la verità anche questo forse è stato anche una mia una mia caratteristica per almeno una decina d'anni dopodiché ho avuto uno sperone calcaneare al piede destro che tra l'altro poi ce l'aveva anche mio padre nello stesso periodo quindi è una cosa molto molto particolare e nel 91 91 sì luglio 91 mi hanno operato e quindi sono stata ferma per un bel po' col gesso dopodiché nel mese di fine ottobre primi di novembre ho ricominciato per tutta la preparazione fisica quindi sai ovviamente dopo mesi che non giochi hai male dalla punta del capello alla punta del piede e ho cominciato comunque ad avere questo problema all'anca avevo questo gran male all'anca all'anca sinistra e facendo una lastra si è visto insomma si vedeva che c'erano un po' di calcificazioni cartilagine abbastanza consumata e quindi all'epoca ti parlo del 91 92 le tecniche ovviamente non c'erano le tecniche che c'erano adesso poi l'anca è un infortunio ti dico abbastanza complesso cioè vedi anche il Murray della situazione o prima di Murray Hewitt o Querten difficilmente quando riempire a alti livelli dopo esatto e quindi ho detto voglio provare a qualificarmi per la mia terza olimpiade perché ho avuto l'opportunità di giocarne tre tra cui anche una medaglia di bronzo che è appesa in casa e arrivavamo e ho rischiato e ho rischiato tanto nel senso che la mia classifica era scesa tantissimo era intorno alle 150 e dovevo rientrare tra le prime 50 per poter andare a Barcellona e ce l'ho fatta ce l'ho fatta e in quel momento lì quando poi sono arrivata a Barcellona e ho perso al secondo turno ho chiamato casa ho detto collegatevi che ho qualcosa da dire ma una scelta mia non condivisa con nessuno mi sono proprio ho detto è arrivato il momento sai quando non puoi più allenarti come puoi tu quando perdi da giocatrici che comunque prima vincevi abbastanza facilmente ho detto è arrivato il mio momento anche se Roberto aveva ancora due anni di due anni di contratti quindi fortunatamente le aziende hanno capito mi sono fatta togliere dalla classifica mondiale della WTA perché non volevo vedere il mio nome scendere nei meandri di 500 600 quindi ho firmato un foglio dichiarando che non avrei più cercato e quindi mi hanno tolto la classifica subito non ho mai avuto un rimpianto su questo ho detto è arrivato il momento e da quel momento lì non ho più giocato un match comunque sicuramente esatto hai capito che non sarebbe più stato come prima e quindi hai fatto per te la scelta giusta diciamo che poi in quei tempi adesso magari 26 anni sembra precoce ma per una serie dei motivi ma allora diciamo che anche Borg si è ritirato a 26 anni insomma non era una cosa stranissima questo dovuto sicuramente a tutto quello che c'è dietro adesso al giocatore professionista che una volta non c'era era più fai da te diciamo così quindi il fisioterapista la preparazione atletica diciamo così che quello che è capitato te Raffaella credo che allora era più frequente adesso meno adesso la carriera è molto più più lunga sia per le uomini no ma è già diverso molto diverso anche per quanto riguarda la programmazione adesso cioè tu vedi specialmente anche per quanto riguarda mi vengono in mente il Berrettini il singer della situazione che non hanno diciamo così fatto una carriera juniores a tempo pieno ma bensì si sono diciamo così concentrati per arrivare già a livello professionistico ben preparati ben strutturati fisicamente e tecnicamente all'epoca si faceva una grande tutta una programmazione a livello juniores e poi si saltava il professionismo quindi si incominciava già a 12 13 anni a giocare una bella serie di tornei esatto quindi metti sono 14 anni come da adesso dai 18 ai 32 34 anni sarebbe e poi io metterei anche i materiali sia le scarpe che la racchetta secondo me l'ho visto anche su di me cioè il fisico soprattutto se giocavi sui campi in duro quindi consideriamo le scarpe il materiale di adesso che era molto più ammortizzante quindi per le articolazioni mettiamoci anche le racchette molto più pesanti le corde sei d'accordo? anche le corde assolutamente le corde esatto non l'hanno sentito le corde assolutamente sì no no condivido condivido in pieno adesso non so se tu allora giocavi già col budello sì poi c'era più diciamo così c'era l'abitudine di incordare sempre attenzioni molto elevate ma comunque io credo che le scarpe che magari sono sottovalutate però il fondo delle scarpe di allora era molto più rigido e anche i campi stessi erano molto più rigidi certo benissimo Raffaella io ti ringrazio veramente tanto spero che molti giovani soprattutto e ragazzine possano ascoltare questa intervista per me è stato veramente un piacere anche per me grazie mille poi magari ci sarà occasione di di riparlare e di vederci sicuramente magari vediamo e vediamo di magari di rivederci magari in altri con altri argomenti o addirittura anche di persona ci vediamo magari noi due sicuramente va bene grazie mille Roberto grazie dai ci sentiamo adesso io elaboro un attimino queste interviste non faccio tagli taglio l'inizio insomma quando partiamo e poi la vedrai sul mio canale io ti mando il link e lo vediamo speriamo va bene volentieri grazie mille ciao grazie ciao ciao ciao